il cammino di santità, a non guardare in giro come siamo il cammino di santità, a superare gli ostacoli a mettere sul cammino di santità, a mettere gli indicatori di strada sul cammino di santità che sono i discomandamenti lei ci preside nel cammino di santità, lei ci guida nel cammino di santità lei ci sostiene e ci solleva quando caggiamo nel cammino di santità il frutto, l'obiettivo finale della Madonna lei dice di questo cammino quando lei dice voglio che siete tutti per me non so voglio salvare tutti e quindi si prende per mano come una buona madre si guida nel cammino di santità e si porta alla vita eterna questo è il progetto di Maria, mai dimenticarlo perché noi siamo dedicati per l'eternità la vostra vita è un cammino per l'eternità quindi questa è la strada dovete impostare il cammino verso l'eternità la Madonna si ricorda che la vita passa dice se voi siete con un ferro di primavera che oggi sono meravigliosi domani non ci sono tutte le cose di questo mondo la Madonna andrei che